Salve. Allora, spiegare a un pubblico perché, a un pubblico di lettori, perché una persona scrive è un'operazione abbastanza inutile, però, come in tutte le operazioni inutili, tutte le volte che uno ci si mette davvero, scopre di pensare cose che in realtà non sapeva nemmeno di pensare. Quando uno scrive, di solito prende una maggiore consapevolezza di quello che pensa per davvero. Un grandissimo scrittore, Oran Pamuk, ha chiuso la sua conferenza nella quale ringraziava il comitato di provincia svedese, il comitato Nobel, di avergli assegnato il suo premio, chiudeva questo discorso dicendo scrivo perché non riesco a essere felice, punto. Scrivo per essere felice. Io ho un punto di vista un pochino diverso e adesso cercheremo di spiegarlo. Per quale motivo una persona si mette lì a scrivere? Beh, fondamentalmente credo che ci sia una prima componente dalla quale tutti dovremmo guardarci, ed è la voglia di essere ricordati a qualsiasi costo. E per a qualsiasi costo bisogna andare a vedere che tipo di libri vengono pubblicati ogni tanto. Se avete un giorno una serata libera con gli amici, non sapete che fare, vi rompete le scatole e la televisione non funziona, ci sono dei libri che possono essere utili, in questo caso, come i libri più assurdi del mondo, di Russell Esch e Brian Lake, che elenca quelli che a giudizio degli autori sono i libri più sorprendenti, fantasiosi, assurdi che possono essere scritti. Cos'è un libro assurdo? Si può capire bene andando a guardare la bibliografia di Bertolt Laufer, per esempio. Bertolt Laufer è l'immortale autore del libro Oderico da Pordenone, è mai stato in Tibet? La renna e il suo addomesticamento, la giraffa nella storia dell'arte e addomesticamento del cormorano in Cina e in Giappone. Sicuramente un uomo dagli interessi sterminati, che è riuscito appunto a andare oltre la sua stessa vita, questo è il segreto della scrittura, chiedendosi se Oderico da Pordenone, persona che a me, non so voi, era sconosciuta, è mai stato in Tibet. La risposta, se volevato saperlo, è non è chiaro. Però, Giallo, lo scegliere di affidarsi a un libro, di affidare quello che una data persona pensa a un libro, è un'operazione che è piena di ostacoli, è piena di pericoli. Prima di tutto perché lo scrittore, alla fine, è un amico pubblico, è una persona che vi affida i suoi pensieri, anche se voi non lo conoscete e lui non conosce voi. Però lo scrittore è talmente convinto che quello che ha da dire sia importante che non gliene frega niente, siamo talmente pieni di noi, talmente autoreferenziali da essere convinti che quello che ci viene in mente debba interessare a qualcuno per forza. Non solo, deve anche sborsare dei soldi per sapere cosa mi è venuto in testa. E lo facciamo sotto questa forma, il libro. Libro che ha un titolo, il quale di solito ha a che fare con il contenuto, un autore e un editore. Questi sono i tre elementi del libro. A volte la coniugazione fra autore e libro può essere molto più dirompente del libro stesso e suggerire una lettura non corretta. Tanto per fare un esempio, a volte la cosa, diciamo, si muove al riso, per esempio, obesità, le cause, le conseguenze, le cure. Medcom Press, New York, 1974, a opera però del dottor Luigi Lasagna. Altre volte, diciamo, quello che promette il titolo in congiunzione con l'autore è lievemente più inquietante. Assistenza sociale nell'industria del sud dell'Inghilterra. È scritto dal dottor Robin Hood. E può essere promettente. Altre volte, dal titolo non è possibile inferire cosa di cosa l'autore abbia intenzione di parlare. È il caso di Pogonologia, di Jacques-Antoine Duller. Scopriamo. Qualcuno di voi sa cosa significa la parola Pogonologia? È lo studio scientifico del taglio della barba. Così oggi, perlomeno, abbiamo imparato una parola nuova. Jacques-Antoine Duller ha reso essenziale, ci ha reso noto questo tipo meraviglioso di pubblicazione. Altre volte, quello che capita è un pochino più curioso, un pochino più imbarazzante. Una casa editrice americana, nel 1940, pubblica il libro Oliver Twist. e mette in copertina, come autore, Mark Twain. Il libro è di Charles Dickens. Sono cose a cui si va incontro, sono rischi a cui si va incontro. Però c'è un rischio ancora più, ancora più tremendo, a cui si va incontro, quando ci si addentra nei libri più assurdi del mondo. Ed è quello di giudicare assurdo, ridicolo, incomprensibile, un libro che in realtà non lo è affatto. In questa classifica, in questo libro, i libri più assurdi del mondo compare, a un certo punto, e sono convinto che a qualcuno di voi questo titolo dirà qualcosa, storia del pepe e della lana nell'Europa del secolo XVI, di Carlo Maria Cipolla. Allora, ci sono due errori di fondo in questa classificazione. Primo, Carlo Maria Cipolla. Carlo Cipolla non si chiamava affatto Carlo Maria Cipolla, Carlo Cipolla si chiamava Carlo Cipolla e basta, ma richiesto di fare una conferenza ad Harvard, gli venne dato un form da riempire dove si chiedeva nome, cognome e frannome e cognome l'iniziale del secondo nome, quella che tutti gli statunitensi hanno. E lui non sapendo cosa dire, come si chiamano tutti gli italiani in secondo nome, Maria Carlo M. Cipolla. E da lì nasce Carlo Maria Cipolla, che in realtà non esiste. ma storia del pepe e della lana nell'Europa del XVI secolo andrà poi a far parte insieme con storia della stupidità umana di quello che è uno dei libri più belli, secondo me, mai pubblicati nell'Italia del dopoguerra, allegro non troppo, proprio di Carlo Cipolla. Giudicare un libro dal titolo potrebbe essere talvolta una cazzata colossale. Non si giudica un libro dalla copertina. Per giudicare un libro è necessario fare un'operazione molto faticosa che consiste nel prenderlo, nell'aprirlo e nel leggerlo. Operazione questa talmente faticosa che a volte anche chi lo dovrebbe fare di mestiere non lo fa. Qui siamo a una fiera della piccola e media editoria e uno talvolta può essere convinto che i libri che valgono la pena di essere letti sono solo i libri che invece vengono pubblicati da grandi editori. Beh, vi vorrei raccontare due storie a questo proposito, quello dei grandi editori. C'è un grande editore, ci sono vari grandi editori che nell'immediato dopoguerra, tra il 1947 e il 1949, rifiutano un manoscritto. Il manoscritto di un signore torinese di una trentina d'anni che un giorno però trova un editore, un piccolissimo editore illuminato, l'editore si chiama Franco Antonicelli, che legge il libro, lo trova meraviglioso e lo pubblica nella sua casa editrice, la De Silva Editore. Qualcuno di voi conosce la De Silva Editore? No. Anche il nome di Franco Antonicelli, che pur era una persona di una certa qual cultura, oggi è quasi del tutto scomparso. Sul libro, il libro di cui stiamo parlando, invece non è proprio del tutto scomparso. Il libro si intitola Se questo è un uomo. è stato scritto da Primo Levi ed è probabilmente il libro più bello che sia stato scritto nell'Italia del dopoguerra. Nella mia personale classifica se la gioca con il gatto pardo. E non è giusto fare una classifica fra questi due. Se questo è un uomo, esce per i tipi dell'editore De Silva in 1500 copie e non viene considerato per almeno un paio d'anni, fino a quando un altro personaggio il podorinese, Italo Calvino, se lo ritrova in mano, lo legge, va dai suoi capi redattori all'Einaudi e dice avete rifiutato sta roba qui? Ma siete imbecilli? E parte la storia di questo romanzo meraviglioso. Primo Levi poi scriverà altri libri. Il libro più bello, secondo me, di Primo Levi non è un romanzo. È una raccolta di racconti insieme a un'autobiografia insieme a un libro divulgativo di Chinica. si intitola Il sistema periodico. Ma nei suoi libri Primo Levi affronta i temi e gli argomenti più disparati e in un suo libro bellissimo Primo Levi che si chiama La ricerca delle radici Primo Levi parla dopo averne pubblicati vari estratti dei libri che lo hanno formato. È uno scrittore che parla dei libri leggendo i quali è diventato quello che è diventato. E uno di questi libri è particolarmente sorprendente perché per l'argomento che tratta e perché il libro ha una storia molto molto simile alla sua. È un libro che esce nel 1891. Anche qui l'autore lo propone a vari editori. Tutti gli editori rifiutano di pubblicarlo tanto che l'autore non lo pubblica nemmeno con una casa editrice va da un tipografo tale Salvatore Landi o Salvatore Landi e lo pubblica a proprie spese dopodiché incomincia a venderlo per conto suo. Chi vuole comprare il suo libro deve scrivergli a casa sua e l'autore a quel punto manda una copia del libro a casa a previo ricevimento del vaglia postale. E piano piano il libro ha successo. Piano piano incomincia quel meccanismo che tutti noi lettori conosciamo che si chiama passaparola. Viene fatta una seconda edizione nel 1895 poi una terza nel 1897 una quarta una quinta fino alla sesta edizione 1902 dove invece di Salvatore Landi arriva un editore vero l'editore Ulrico Hoeppli che acquista i diritti di questo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene opera del commendatore Pellegrino Artusi. All'epoca in cui l'Artusi muore 1911 la scienza in cucina ha venduto 357 mila copie ci sono stati periodi nella storia italiana in cui l'Artusi vendeva più dei promessi sposi eppure questo libro parte non considerato da nessuno. Perché Primo Levi apprezzava così tanto questo libro? La cosa curiosa è che Primo Levi ce lo dice esattamente nello stesso posto in cui nella sua ricerca delle radici dà dei consigli a un giovane scrittore. Il consiglio principe che Primo Levi dà a uno scrittore discende proprio dai libri che Primo Levi ha letto e che gli sono piaciuti. Dice Primo Levi prendi un libro come La scienza in cucina. Il suo autore L'Artusi non si prefigge lo scopo di salvare l'umanità dall'incultura dalla rozzezza non si propone lo scopo di essere ammirato come un grande letterato si propone uno scopo umile e sincero quello di insegnare alle persone a cucinare umile e sincero in questo modo con sincerità con spontaneità e con competenza arriva in modo naturale all'arte. Procura dice Primo Levi di fare la stessa cosa quando scrivi in primo luogo assicurati di avere qualcosa da dire ecco questa è in assoluto la cosa più difficile assicurati di avere qualcosa da dire io non vi so spiegare bene perché scrivo perché il motivo per cui lo faccio è capire meglio io stesso le cose che mi vengono in mente perché a volte le cose si capiscono meglio solo dopo essersele chiariti in maniera esplicita in maniera chiara pulita e ordinata altre volte si scrive con un altro scopo con lo scopo puramente di divertire il proprio lettore alle volte si scrive con lo scopo di educarlo è molto 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 difficile spiegare perché una persona scrive il modo più sincero che ho di spiegarvi perché scrivo è semplicemente dirvi che se non scrivessi probabilmente starei peggio detto questo c'è uno step ulteriore e questo è è quello di cui secondo me in questo momento c'è un grandissimo bisogno nel nostro paese e nel mondo ed è la terza parte del libro nella maggior parte dei miei libri dopo titolo e autore c'è scritto Sellerio di Tolle Palermo a volte c'è scritto Giunti a volte c'è scritto Raffaello Cortina altre volte ci sono scritti altri editori editore recentemente in un in un giornale quotidiano nazionale che ha anche un sito online molto consultato è apparso l'articolo di un blogger che spiegava i motivi per i quali non crede al fatto che l'uomo sia atterrato sulla luna beh allora non stiamo a ci sono molti modi di spiegare a questa persona che l'uomo è atterrato sulla luna per davvero il mio modo preferito consiste nel chiedersi in piena guerra fredda nel 1966 secondo lui i russi cosa avrebbero fatto se avessero subodorato che gli americani avevano inscenato uno sbarco finto sulla luna so quello che hanno fatto davvero nel 1966 due settimane dopo l'allunaggio il colonnero Vladimir Mishushesky smantella la missione lunare dell'unione sovietica per chi di voi non ha abbastanza dimestichezza con la scienza per seguire questa vicenda probabilmente questo è l'argomento più conclusivo ma la cosa importante non è questa è che a quella pubblicazione di questo articolo seguono migliaia di proteste gente che scrive indignata al quotidiano e uno dei direttori il direttore del quotidiano online risponde dicendo vabbè non sono io che l'ho scritto io l'ho pubblicato noi pubblichiamo quello che ci arriva dai nostri blogger e a me comincia a suonare una campanella comincia a suonare una campanella perché gran parte del mio successo non viene dal fatto di essere Malcom Alvaldi ma di pubblicare con una grande casa editrice che è la Sellerio e Antonio Sellerio una volta nello spiegarmi per quale motivo loro erano dei bravi editori mi disse le seguenti parole noi siamo bravi editori non per quello che pubblichiamo ma per quello che non pubblicheremo mai l'editore sceglie l'editore si prende la responsabilità di dire questo sì questo no questo no questo no questo sì questo no questo no c'è il nome dell'editore accanto a quello dell'atore sul libro ed è una cosa molto importante chi pubblica un libro sceglie dice fidati di me questa roba secondo me è buona viviamo in un momento in cui è molto difficile distinguere quello che potrebbe essere buono da quello che potrebbe non essere buono quello che potrebbe essere credibile da quello che non potrebbe potrebbe non essere credibile nessuno di noi legge solo ed esclusivamente cose sulle quali ha un'assoluta competenza molto spesso siamo costretti a fidarci e abbiamo bisogno di linee guida per fidarci abbiamo bisogno di persone che scelgano per noi poi noi rinnoveremo o meno la fiducia a loro comprando quei libri leggendo quei libri oppure non commettendo più lo stesso errore ma questo lo vedremo in seguito per concludere è molto importante che qualsiasi cosa voi scriviate se volete scrivere se ve la sentite di scrivere se scrivere è la vostra passione affidarvi a persone che leggono quello che scrivete e che ahimè fanno questa cosa molto molto brutta danno un giudizio sapendo che quel giudizio potrebbe anche essere sbagliato ma pur tuttavia è il giudizio della persona che avete davanti se vi fidate bene se non vi fidate ne cercherete un altro la vita è una cosa talmente complessa che è raro trovare fenomeni che siano obiettivi figuriamoci la letteratura c'è un'ultima cosa un'ultima cosa che voglio dire ed è non è tanto legata al perché scrivo ma al come scrivo e anche qui avrei un piccolo aneddoto da raccontare a volte i libri che hanno successo e che diventano pietre miliari della letteratura partono con un piccolo editore a volte invece i libri che diventano pietre miliari della letteratura partono già con un signore editore e con delle aspettative molto elevate è il caso di un libro di Victor Hugo che si intitola I miserabili che esce con l'editore Gallimard e che Victor Hugo consegna dopodiché siccome non è per niente ansioso riguardo all'esito del libro consegna e va in vacanza va un mese fuori da Parigi non vuole sentire non vuole vedere non vuole sapere nulla dopo un mese però l'ansia inizia a roderlo e quindi prende carta e penna e scrive al proprio editore e cosa gli scrive? gli scrive una lettera che consta di un unico segno di punteggiatura punto interrogativo la imbusta scrive l'indirizzo e la manda due giorni dopo le poste erano scelerie già allora arriva la risposta dell'editore Victor Hugo apre la busta tira fuori il foglio e cosa c'è scritto? c'è un punto esclamativo esattamente vede? è proprio questo il motivo quanti di voi leggono venendo completamente sorpresi da quello che leggono e quanti invece man mano che leggono non si costruiscono il proprio mondo che somiglia molto a quello della situazione che stanno leggendo leggere è un'operazione attiva e per far sì che io scriva bene devo fidarmi di voi che leggete devo pensare che siete persone che avete più o meno le stesse mie capacità più o meno la stessa mia intelligenza più o meno la stessa mia cultura io do dei suggerimenti voi ci mettete il resto leggere è un'operazione attiva non è un'operazione passiva voi non state lì e venite imboccati da cucchiaiate di sapienza che potrebbero strozzarvi voi ricevete degli hint dei suggerimenti delle frecce che vi dicono di guardare in una certa direzione e voi mettete tutto quello che manca se c'è un consiglio che posso dare sincero a chi scrive è fidati di chi ti leggerà perché molto probabilmente ne sa più di te io vi ringrazio per la vostra attenzione vi auguro uno splendido pizza book festival grazie di tutto cuore e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti